Vi è mai capitato di acquistare un prodotto difettoso? Magari avete speso i vostri risparmi per qualcosa che non funziona come dovrebbe. Magari il vostro nuovo telefono ha smesso di funzionare dopo una settimana. È una situazione che può far perdere la pazienza a chiunque. O forse avete firmato un contratto che non avete capito appieno. Le clausole nascoste possono essere davvero insidiose. Queste situazioni sono purtroppo comuni. Ogni giorno migliaia di persone affrontano problemi simili. Ci siamo sentiti tutti frustrati e impotenti come consumatori. Cosa si può fare? Come possiamo difenderci? A chi ci si può rivolgere? Spesso chiedere aiuto a un amico o a un familiare non basta. È qui che entrano in gioco le associazioni dei consumatori. Questi gruppi sono fondamentali per proteggere i nostri diritti. Sono i vostri alleati nella lotta per un trattamento equo. Con il loro supporto possiamo ottenere giustizia e risolvere i nostri problemi. Immaginate questa scena. Avete comprato una lavatrice che si è rotta dopo un mese. Il venditore si rifiuta di onorare la garanzia. Vi sentite persi e impotenti. Cosa potete fare? Questo è un classico esempio di situazione in cui un'associazione dei consumatori può aiutarvi. Sono i vostri portavoce sul mercato. Le associazioni dei consumatori forniscono un servizio vitale al pubblico, offrendo supporto e protezione ai consumatori in vari modi. Uno dei loro ruoli principali è quello di offrire consulenza e orientamento gratuiti, aiutando le persone a navigare nelle complessità del mercato. Questo include la spiegazione dei vostri diritti ai sensi della legge sulla tutela dei consumatori, assicurandosi che siate ben informati. Possono aiutarvi a capire i termini e le condizioni dei contratti, chiarendo ogni dubbio che potreste avere. Possono guidarvi nella procedura di reclamo, fornendo assistenza passo dopo passo per risolvere i vostri problemi. Questo per garantirvi di non essere raggirati. E per assicurarvi che i vostri diritti siano sempre protetti. Asso Confam, APS, è un'associazione dei consumatori, con sede in molte regioni in Italia, da nord a sud, dedicata a proteggere e promuovere i diritti dei consumatori in tutto il paese. Vanta una solida esperienza nella difesa dei diritti dei consumatori, offrendo supporto legale e consulenza specializzata. Si impegna a garantire pratiche eque e trasparenti sul mercato, assicurando che i consumatori siano sempre informati e protetti. Il suo team di esperti è specializzato in vari settori del diritto dei consumatori, lavorando instancabilmente per risolvere le controversie. Tra questi, la sicurezza dei prodotti, i servizi finanziari, banche, poste, assicurazioni, bollette, telefono, pay tv e la trasparenza nelle transazioni economiche. Inoltre, si occupa di viaggi e turismo, garantendo che i consumatori possano godere di esperienze sicure e piacevoli. Cosa ci distingue? Nel complesso panorama dei consumi odierno, è più importante che mai conoscere i propri diritti. ASSO CONFAM APS è qui per supportarvi in ogni fase del percorso. Non esitate a contattarci se avete problemi come consumatori. Possiamo fornirvi la guida e l'assistenza necessarie per affrontare queste sfide in modo efficace. Visita il nostro sito web www.assoconfam.it All'interno troverai le nostre sedi e tutti i nostri contatti telefonici.